In croceranno nuovamente le braccia il prossimo 5 febbraio gli 80.000 addetti della ristorazione collettiva impiegati nei servizi di preparazione e consegna di passi su larga scala, menze aziendali, scuole e ospedali in attesa da oltre 32 mesi del rinnovo della parte speciale del contratto del turismo Come dicevo la situazione è molto delicata, nel nostro settore noi abbiamo circa 2 milioni di lavoratori che stanno aspettando i rinnovi contrattuali e il 5 febbraio le segreterie nazionali di CGL e Cesarevoli hanno programmato uno sciopero generale perché da ben 32 mesi che stiamo aspettando il rinnovo della ristorazione collettiva scuole, menze, dove vanno a mangiare i nostri ragazzi nelle scuole, voglio dire stiamo parlando di salari minimi che purtroppo anche alla luce delle problematiche e dei cambi di appalto non riusciamo a chiudere questo contratto del settore della ristorazione